come vuoi? no basta! è una cosa importante è una cosa importante la luce sopra la piazza dai non ridere sempre questa è la vista la vista mercatore 3,50 euro è solo una lampa a pia non solo cosa fosse però come la dicità farei era una sfera bianca e allora facciamo siamo cento metri ciò con la terra hai visto loro ogni cazzo di cittadini del mese qui? si si uno è dire che è un pattetto lì è il manomenata di maroni soooops al malato di maroni ma non sono belli comunque i punti erano buoni